Amici di Lecco FM, buongiorno, ci troviamo in stazione a Lecco per farvi vedere la situazione per quanto riguarda il trasporto su treni che appunto per quest'oggi, lunedì 31 maggio, ha previsto uno sciopero dalle 9.01 come potete leggere alle 16.59 uno sciopero che evidentemente ha riscosso particolare successo appunto tra i lavoratori e il personale insomma di Trenord tanto che come potete vedere dai cartelloni tutti i treni a partire dalle 12.06 fino alle 13.06 sono tutti cancellati da quanto ci è stato detto abbiamo raccolto qualche parere anche dagli operatori che lavorano qui stazione la situazione è stata pressoché la stessa anche nelle ore precedenti ad ora quindi a partire dalle 9 i disagi insomma per magari non i pendolari che prendono il treno prima ma per tutti coloro che insomma lavorano e si spostano nei momenti successivi è sicuramente stato un disagio ecco pensiamo che insomma la situazione si potrà farla anche fino alle 17 orario in cui finirà insomma questo questo sciopero naturalmente adesso il problema si pone per tutti gli studenti e studentesse che in questo momento stanno uscendo da scuola e che magari abitano in paesi che appunto non sono raggiungibili facilmente con i pull insomma i bus di linea. Ecco dalla stazione di Lecco è tutto, vi terremo aggiornati appunto sul sviluppo di questo sciopero ma per appunto il momento è tutto, un buon proseguimento di giornata a tutti i nostri giroascoltatori